Buongiorno a tutti, vi volevo invitare al prossimo seminario che terrò con Giardino dei Libri, sarà un seminario di due giorni, dove parleremo dei passaggi della vita e delle loro iniziazioni. Sapete quanto sia per me importante riconnetterci proprio ai passaggi della nostra vita, perché non siano soltanto dei passaggi da conoscerne i tecnicismi, ma comprendere la nostra vita è comprendere proprio l'esistenza stessa, nel senso che nei nostri passaggi dalla nascita, l'infanzia, l'adolescenza, la maturità e l'ultima parte della vita non sono soltanto dei processi terreni, ma fanno proprio parte di un processo evolutivo che coinvolge nel macro tutto l'universo e ogni processo, ogni passaggio della nostra vita è un passaggio iniziatico al servizio dell'unica e vera missione che ha l'intero universo, che è quello di permetterci di farlo risplendere, emergere attraverso di noi. Quindi saranno due giorni dove proprio conosceremo l'importanza di saper rinascere e l'importanza del saper morire, non tanto, ripeto, come questi passaggi che danno l'inizio alla nostra vita attuale e saranno anche la fine di questa vita attuale, ma proprio nel nostro quotidiano. Il saper nascere e il saper morire sono un'arte che dovremmo integrare ogni secondo della nostra giornata, perché è proprio grazie a loro che possiamo concederci di trasformarci, possiamo concederci di allinearci con il movimento dell'universo che muore e rinasce costantemente. Infatti la definizione proprio, una delle definizioni dell'universo è che è impermanenza, è continuamente movimento costante. Allora se noi vogliamo ritrovare la gioia di vivere, vogliamo ritrovare il benessere, l'abbondanza, c'è una vita che merita di essere vissuta, quella vita che tutti sogniamo, beh per avere quella vita dobbiamo diventare come il movimento dell'universo che muore e rinasce costantemente. Quindi in questo seminario parleremo proprio di questi processi improvvisti come un'arte quotidiana per permetterci appunto di scoprire noi stessi e finalmente di essere un essere risvegliato che cammina in terra felice di poter creare con la vita stessa.